Continuano le polemiche riguardo la protesta pacifica pro-ospedale, organizzata la scorsa settimana in occasione dell'inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza ad Agropoli, a cui sarebbe dovuto esserci il governatore De Luca, accusato della mancata promessa fatta riguardo l'ospedale civile, che forse proprio per via della protesta risultato poi assente alla cerimonia. Dopo Agostino Abate interviene ai nostri microfoni anche un altro membro della minoranza del comune agropolese, Gisella Botticchio. Alla manifestazione io avevo deciso, come ho seguito la linea di partito, la Lega, di entrare e di fargli auguri alla Guardia di Finanza, perché era giusto, è un'opera pubblica pagata dai cittadini di Agropoli, abbiamo un mutuo di 1.800.000 euro l'anno e quindi era giusto che io onoravo la giornata all'istituzione, come da istituzione all'istituzione. Detto questo mi sono portata però una maglietta, una maglietta che vi faccio vedere, dove io avevo indossato sotto un cappotto, però c'era la sicurezza, evidentemente ha intuito e mi hanno invitato fuori e hanno sequestrato la maglietta. Noi non eravamo né armate né per fare schiamazzi, pacifica, una riunione molto pacifica, però io ho visto che loro hanno badato molto all'ordine pubblico e non al risentimento del popolo di Agropoli che gli manca un servizio sanitario adeguato. La consigliera in seguito ha anche commentato le parole di Alfieri nei confronti dei contestatori accusati dall'ex sindaco di Agropoli di aver rovinato la manifestazione, avendo impedito secondo lui di permettere al governatore di essere presente. La botticchia ha definito come fuori luogo l'intervento di Alfieri, criticando la mancata presenza di De Luca e in tante altre occasioni importanti per Agropoli. Anche il caro sindaco di Capaccio, arrabbiato perché De Luca non è venuto, ma perché De Luca quante volte è stato invitato e doveva venire il commissario e dovevamo fare la riunione in comune. Cioè ci sta un'omertà, adesso vediamo pure il sindaco di Capaccio arrabbiato perché per colpa della protesta De Luca non è presente, ma De Luca deve venire lui a spiegarci in questi cinque anni cosa ha fatto, perché bene non ha fatto. Venire a tagliare un nastro ogni tanto non è che il popolo vuole un pronto soccorso adeguato. Quindi questa arrabbiatura e questo comportamento io l'ho ritenuto fuori luogo. Ed infine commenta il video di Vincenzo De Luca in cui il governatore annuncia la riapertura del pronto soccorso ad Agropoli, definendo come non risolutori i piccoli miglioramenti che si andranno ad apportare nell'attuale PSAUT, accusandolo ancora una volta di voler dare agli agropolesi un piccolo premio di consolazione. Come targhe davanti all'ospedale già ci stanno il pronto soccorso, quindi non è una weak surgery che consiste in questi interventi brevi, una sala operatoria per, che ne so, il neo, lunghi e ingarnite, sono cose molto molto, diciamo, di poco conto. Noi vogliamo il pronto soccorso che comprende analisi, cardiologia, terapia intensiva, rianimazione, traumatologia. Noi vogliamo un pronto soccorso, le targhe che riportano, e quello vogliamo. Quindi tutti questi paliativi, questi raggiri non vanno bene. Anzi, io inviterò il sindaco di Capaccio perché noi a febbraio vogliamo, noi la minoranza, Abate, Caccamo e la sottoscritta, con l'appoggio dei partiti, sia Fratelli d'Italia che la Lega, fare un convegno nell'aula consigliare e preghiamo tanto il sindaco di Capaccio che faccia in modo di far intervenire il governatore di Luca. E una volta per tutte davanti al popolo di Agropoli si parli delle sorti dell'ospedale, quali saranno? Non venite con la caramellina.